ferro arricciacapelli automatico di nuova generazione vi presentiamo la nuova generazione di auto air swirl curler arricciacapelli dotati di un'innovativa scanalatura a ue di un sistema di rotazione automatica consentono di creare ricci degni di un salone senza bisogno di alcuna abilità basta inserire una ciocca di capelli nella scanalatura o premere il pulsante di rotazione e l'esclusivo design acuneo e petali avvolgerà automaticamente i capelli intorno all'arricciacapelli la scanalatura o del ferro arricciacapelli combinata con un design semi chiuso antiscottatura offre sia protezione dal calore che districabilità dei capelli inserite rapidamente i capelli nell'arricciacapelli riducendo notevolmente il rischio di scottature al cuoio capelluto e alle dita anche i principianti possono creare facilmente e in sicurezza splendidi ricci senza temere scottature l'esclusivo rivestimento fazzina è due volte più liscio dei materiali ceramici tradizionali e riduce l'effetto crespo causato dall'attrito fino al 50 per cento la funzione di spegnimento automatico si attiva automaticamente dopo 30 minuti di inattività ferro arricciacapelli automatico senza fili drecovo dite addio alla problematica dei cavi attorcigliati e grovigliati puoi arricciare i capelli ovunque nessuna abilità richiesta che tu sia un principiante o un professionista puoi utilizzare il ferro arricciacapelli automatico molto facilmente batteria ricaricabile integrata da 9600 mAh per 90 120 minuti di tempo di lavoro con 4-5 ore completamente carica schermo lcd e impostazioni del timer l'arricciacapelli automatico può raggiungere una temperatura di 140 gradi in 90 secondi e una temperatura massima di 200 gradi in 300 secondi arricciacapelli automatico senza fili grande esperienza personalizzata il ferro arricciacapelli fornisce 6 temperature 6 impostazioni di temporizzazione e direzioni di arricciatura sinistra o destra in modo da poter modificare facilmente le impostazioni per ottenere il diverso stile di capelli dei ricci ricci sciolti ricci ondulati o ricci stretti batteria di grande capacità e cavo di ricarica usb inclusi il ferro arricciacapelli automatico può essere utilizzato fino a 50 minuti dopo 3-4 ore di carica senza restrizioni sui cavi puoi usare questo ferro per arricciare i capelli dove vuoi rispetto al tradizionale arricciacapelli ha una doppia funzione di isolamento termico che protegge le mani e il viso dalle scottature durante l'uso il motore del ferro per ricci è delicato sui capelli che non causano alcuna trazione non richiede molto spazio per riporla e non è necessario trovare una presa prima dell'uso essendo cordless l'arricciacapelli automatico è comodo da portare ovunque arricciacapelli automatico senza fili igute cambound styler con batterie integrate da 2600 miliampere ricarica per due ore e uso continuato senza fili per 35 minuti ti consentiranno di portare la piastra in giro con te per sistemare la piega ovunque ed avere ricci sempre perfetti styling in sicurezza la tecnologia IAHS che tiene sotto controllo motore e chip rende la piega sicura evitando che i tuoi capelli possano rimanere incastrati nell'apparecchio il sensore a infrarossi rileva l'inserimento della ciocca nell'apparecchio e solo quando i capelli saranno sistemati all'interno l'arricciacapelli entrerà in funzione ed avvierà la fase di arricciatura con la funzione date impostata arricciacapelli automatico carayasi il nostro miglior arricciacapelli automatico grazie al sistema di arricciatura intelligente avrà i ricci perfetti e duraturi premendo semplicemente il pulsante la tecnologia per ricci permette di ottenere risultati professionali comodamente a casa e su ogni ciocca con il rivestimento il ceramica e cheratina ti offre un look luminoso e ti protegge i capelli senza danneggiarli con 4800 mAh di batteria integrata e con ricarica usbd tipo c ti permette di avere un'autonomia di un'ora con una ricarica piena in tre ore l'arricciacapelli ha anche la funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia e garantire tutta la sicurezza